Il pubblico ha risposto in massa a questa nuova versione del primo Highlander. Perfino gli effetti speciali sono sprecati. Siamo nel 2024. Il pianeta Terra non possiede più ozono e al posto del cielo c'è un immenso scudo solare. L'immortale McLeod deve vedersela, dopo essere stato cacciato da Zeist, col malvagio Katana. Sarà aiutato da Ramirez, suo antico maestro ritornato in vita. Christopher Lambert fornisce in questo film una delle sue migliori interpretazioni. La colonna sonora di Stuart Copeland è splendida.